Pronta, Ele? Cognome e nome? De Baptiste e Elena Soprannome? Ele Solo Ele Non ti chiamano in nessun modo strano? Di palestra terza miglia Spiega perché? Perché quando faccio degli esercizi Sembro bene e l'inizio Ok, che sono due agoniste grandi Quanti anni hai? Nove Che classe fai? Quarta La tua materia preferita è quella che non sopporti? Matematica Preferita? Sì E giocatica E? Giocatica E il tuo animale preferito? Cane Ce ne hai? No No Colore preferito? Verde Cibo preferito? La bagna E che sport fai? Ginnastica Da quanti anni? Tre Perché hai scelto proprio la ginnastica? Perché è uno sport movimentato E carbonico Quante ore ti alleni? Già in nove Tre E dieci Eh? E dieci Tre Il tuo attrezzo preferito? Parallel Quello che non ti piace? Cinghietti Vabbè, cinghietti non è considerato il proprio attrezzo Tra E l'elemento più difficile che sai fare? Eh, rivolto dal risultato Corpo libero E come ti senti quando sei in gara? Tesa Hai qualche portafortuna? Sì Cosa? Una portafortuna Che è un più osso del nove E come hai fatto? Un coniglio Un coniglio Ok Come ti senti quando in palestra non ti viene proprio qualcosa? Mi sento un po' arrabbata con me stesso Però poi non c'è Ok Com'è il tuo rapporto con la tua allenatrice? Con la Chiara? Beh, andate d'accordo Perché ridi? Allora, un tuo pregio Nella vita Una cosa che ti piace di te? Che so ascoltare Bello Un bellissimo pregio E un difetto? Sono un cambio Molto? Sì Non mi sembri una molto per malosa Sì Ah, solo a casa? In palestra cambi? Sì